In questi giorni tutti stanno parlando di chat CBT, dell'intelligenza artificiale, e direi anche sinceramente non a torto perché la sua capacità di generare dei testi con un linguaggio talmente perfetto al punto da non riconoscere minimamente se quel testo è stato scritto da un computer o invece da un essere umano è a dir poco incredibile secondo me. Ecco, se non hai ancora sentito parlare ti spiego brevemente che cos'è chat CBT. Chat CBT è una chat dove interagisci con una intelligenza artificiale che genera in modo automatico delle risposte ai tuoi messaggi di testo ed è stato addestrato su un enorme corpus di testo proveniente da internet per comprendere il linguaggio umano e produrre così delle risposte convincenti. Ecco, e per darti la prova di quello che ti sto dicendo ti dico che in realtà la spiegazione che ti ho appena dato di chat CBT non è farina del mio sacco, ma ho chiesto proprio a chat CBT di darmi una definizione. E questa è soltanto in realtà la punta dell'iceberg di quello che chat CBT può fare. Ecco, se ancora non mi conosci chi sono io e perché te ne sto parlando? Io sono Michela e mi sono trasferita in Messico due anni fa e per fare questo passo ho, direi, stravolto completamente la mia vita anche da un punto di vista lavorativo. E come avevo già detto nel video precedente sulla libertà finanziaria, per essere veramente liberi di fare quello che si vuole della propria vita bisogna essere in primis indipendenti dal punto di vista economico. Ecco, e in questo video specifico vedremo insieme degli esempi pratici e concreti, applicabili direi proprio da subito, da ora, su come anche tu potresti iniziare ad usare l'intelligenza artificiale per crearti un nuovo lavoro o magari chissà per migliorare il tuo lavoro. Infatti questa nuova tecnologia ha iniziato a diffondersi nelle ultime settimane e sta già cambiando la vita e i lavori e anche il modo di lavorare di moltissime persone. E lo so, una possibile reazione, direi anche assolutamente comprensibile, potrebbe essere quella di dire No, guarda, amici, a me questa cosa non mi piace, mi spaventa, anzi, l'avvento dell'intelligenza artificiale e quindi mi rifiuto di usarle. E questa, guarda, in realtà anche per me sarebbe la soluzione migliore di tutte, perché anche io preferirei nella maniera più assoluta un mondo senza intelligenza artificiale. Ma in realtà le soluzioni sono due, o non la usiamo tutti e allora sì che ha senso non usarla, ma dato che in realtà già adesso milioni di persone nel mondo la stanno già usando, ecco, quindi è già un cambiamento irreversibile in atto e quindi tanto vale cavalcare quest'onda e iniziare ad imparare anche noi a sfruttarla al meglio e anche il prima possibile. Vito Corleone diceva, tieni i tuoi amici vicino e i tuoi nemici ancora più vicino. E lo stesso secondo me dovremmo fare con l'intelligenza artificiale, anche perché questa intelligenza artificiale si sta iniziando a diffondere proprio in queste ultime settimane, quindi il mercato in realtà è ancora completamente aperto, ci sono molte, anzi direi moltissime opportunità per chi è pronto a coglierlo. E magari chissà, sei proprio tu uno di questi dopo questo video. Quindi, tornando a noi, in questo video vedremo insieme cinque idee diverse di attività che puoi iniziare a fare ora utilizzando l'intelligenza artificiale. Non parleremo soltanto di chat GBT, ci saranno anche altre intelligenze artificiali e vedremo anche, soprattutto, degli esempi concreti di attività che puoi proprio fare utilizzando questi nuovi strumenti. Anzi, direi che in realtà sono sei, quindi c'è anche un contenuto bonus che ti dirò alla fine, un altro utilizzo di chat GBT che potrà aiutarti a monetizzare queste cinque idee principali che andremo a vedere. Ecco, e queste sono soltanto cinque idee, ma puoi utilizzare, anzi direi che devi utilizzare la tua fantasia e la tua creatività per trovare ancora degli altri modi in cui puoi usare questa intelligenza artificiale per il tuo lavoro. Perché sì, chat GBT in realtà potrà anche scrivere un articolo nel giro di qualche minuto, ma direi che la creatività e l'ingegno umano, ecco, questi non potranno mai essere sostituito. Quindi sì, sei creativo e fa sì che l'intelligenza artificiale lavori per te e non che ti sostituisca invece nel tuo lavoro. E iniziamo quindi subito. Allora, la prima idea per monetizzare attraverso l'intelligenza artificiale è quella di scrivere una newsletter. E continuo ad ascoltarmi perché secondo me questa è davvero un'idea fantastica ed è anche l'esempio perfetto di come la creatività umana combinata con l'intelligenza artificiale possa aiutarti a monetizzare e a farlo anche in fretta. Allora, fermiamoci un attimo a pensare. Quante piccole o medie aziende italiane non hanno ancora una newsletter? Secondo me tantissime. Magari alcuni non ci hanno mai pensato o magari altri non hanno tempo o non saprebbero cosa scrivere o magari non hanno i soldi per poter pagare qualcun altro che lo scriva al posto loro. Ecco, è proprio questo vuoto che tu puoi andare a colmare adesso. In che modo? Scrivendo degli articoli con chat GBT e vendendoli ai commercianti a prezzi vantaggiosi. Allora, come si fa? Direi che lo possiamo fare insieme così vediamo insieme un esempio concreto. Sono sicura che il tuo meccanico non ha una newsletter, quindi quello che possiamo fare è andare su chat GBT e gli chiediamo ad esempio di darci degli esempi di temi per una newsletter per un meccanico. Ecco, come puoi vedere ho fatto una domanda molto semplice. Nella domanda in realtà ci sono anche degli errori di battitura ma chat GBT ha capito comunque subito che cosa gli stavo chiedendo e ha iniziato davvero nel giro di qualche secondo a generare la risposta e mi sta dando infatti un elenco di possibili titoli di newsletter per un meccanico. Ecco, aspettiamo la fine della risposta e una volta che ha finito di generare la sua risposta scegliamo ad esempio un titolo che ci è piaciuto magari possiamo scegliere il numero 8 e gli chiediamo quindi di sviluppare letteralmente la nostra newsletter, l'articolo della nostra newsletter. Ed ecco come di nuovo nel giro di qualche secondo chat GBT inizia a scrivere la nostra newsletter e come puoi vedere io gli ho dato una indicazione a livello di lunghezza quindi volevo un testo di 400 caratteri però puoi ad esempio dargli altri input magari sullo stile puoi chiedergli di scrivere un articolo o una newsletter professionale o magari con uno stile un po' più simpatico, un po' più informale ecco puoi dargli tu tutti gli input che vuoi di come vuoi che sia il tuo testo. Bene, ora che abbiamo la nostra prima potenziale newsletter per il nostro meccanico che cosa facciamo? Gliela proponi semplicemente quindi puoi proporgli magari di scrivergli una newsletter ogni settimana e lo fai per un prezzo molto basso, molto competitivo come ad esempio 5 euro e puoi fare lo stesso in realtà con il tuo barbiere, con la tua parrucchiera con il fruttivendolo sotto casa, il cartolaio, il bar, la pasticceria, il macellaio insomma con tutte le attività commerciali della tua zona, della tua città e poi magari puoi iniziare a offrire questo servizio anche a distanza espandendoti così a tutta Italia e magari chissà puoi iniziare a proporre lo stesso servizio anche su alcune piattaforme online internazionali di freelance come ad esempio Fiver ma Fiver è soltanto una perché ce ne sono parecchie e quindi ti puoi espandere anche così a livello internazionale e facciamo un esempio, facciamo che trovi 20 clienti ma in realtà sono sicura che con un prezzo così basso ad esempio di 5 euro ne puoi trovare molti molti di più ecco con 20 clienti e una newsletter a settimana per ognuno di loro avessi un'entrata di 100 euro a settimana quindi 400 euro al mese che come hai visto per l'impegno che ci abbiamo messo per l'energia che ci abbiamo messo a generare questa newsletter e anche per il tempo direi che può essere un secondo lavoro molto molto redditizio ma andiamo comunque avanti e vediamo il secondo tema che in realtà è un tema simile perché sempre pensando alle nostre bellissime e amate piccole e medie aziende italiane quanto ad esempio non hanno ancora un logo magari hanno un logo però è un logo degli anni 80 super datato ecco è proprio per loro che puoi arrivare tu a dargli una mano infatti oltre alla newsletter può ad esempio offrire sempre al tuo meccanico di realizzare il suo nuovo logo e anche in questo caso non serve che tu sia un grafico perché puoi usare semplicemente un'intelligenza artificiale in questo caso stiamo parlando di logo AI logo AI è un generatore di logo basato sempre sull'intelligenza artificiale che ti può aiutare a creare dei loghi professionali in maniera direi assolutamente semplice e veloce e di nuovo puoi offrire come prima questo servizio partendo dai commercianti della tua zona per espanderti magari a livello internazionale e puntando secondo me sempre sulla convenienza del tuo servizio e sulla quantità di clienti che potresti ottenere Altre idee, queste volte invece torniamo ad utilizzare ChatGBT Allora, quante volte hai pensato ad esempio di iniziare a scrivere un tuo blog personale o magari non l'hai fatto perché o non hai tempo o magari pensi che scrivere non sia il tuo forte Beh, ora con ChatGBT puoi chiedergli di scrivere un articolo su qualsiasi argomento da andargli, come abbiamo visto prima, degli input, delle indicazioni sulla lunghezza sullo stile di scrittura che vuoi e in pochi minuti ChatGBT ti genera il tuo articolo del tuo blog fresco fresco pronto per la pubblicazione E come facciamo però a monetizzare con un blog? Allora, normalmente per monetizzare con un blog ci vuole direi molto tempo e anche molti articoli scritti soprattutto se stiamo parlando di blog personali Ma potresti invece in realtà iniziare a prendere in considerazione l'idea di utilizzare Medium come piattaforma dove pubblicare i tuoi articoli Allora, che cos'è Medium se non ne hai mai sentito parlare? Medium è una piattaforma di blogging che è nata nel 2012 e che consente agli utenti di creare e condividere anche dei contenuti scritti proprio dei blog Con Medium, una volta che hai in realtà 100 follower sul sito che sono molto pochi, ecco puoi iniziare a unirti al programma partner e quindi iniziare a guadagnare in base a quante persone leggono i tuoi articoli o i tuoi saggi e anche alla durata, ecco, del tempo di lettura o comunque ci sono anche altri fattori che potrai vedere sul sito Le persone su Medium possono guadagnare molto bene in questo modo e si tratta anche di un reddito passivo questo è molto importante perché in realtà una volta che hai scritto l'articolo hai pubblicato l'articolo ecco, l'articolo rimane lì sul sito e puoi continuare a guadagnare soldi con esso fin tanto che le persone comunque continuano a leggerlo e com'è guadagnare soldi su Medium? In realtà non è così difficile perché se controlli le statistiche online scoprirai che il 60% degli iscrittori su Medium guadagna almeno qualche soldo al mese con questa piattaforma quindi come puoi vedere le possibilità di guadagnare un reddito extra magari anche piccolo sono comunque buone E passiamo poi alla quarta proposta parliamo adesso invece di Dolly Allora, che cos'è Dolly? Dolly è un sistema di generazione di immagini e anche Dolly utilizza una tecnologia di intelligenza artificiale per generare delle immagini a partire da una descrizione scritta che gli dai tu Ad esempio, se inseriamo in Dolly la descrizione di cane con cappello da chef vedrai che Dolly ti genera un'immagine anzi no, te ne genera quattro di immagine di un cane con cappello da chef e tu puoi scegliere quella che ti piace di più E anche qui, di nuovo, entra in campo secondo me, anzi deve entrare in campo l'ingegnosità e la creatività umana Per cosa infatti puoi utilizzare questo generatore di immagine? Beh, puoi usarlo in realtà per generare delle illustrazioni puoi usarlo per generare delle foto realistiche e utilizzare poi queste immagini sia per migliorare magari il tuo business o per dare una mano ad altre persone per migliorare invece il loro E perché no? Puoi magari anche combinare Dolly con altre intelligenze artificiali per avere così un prodotto davvero unico Ma facciamo di nuovo degli esempi su come monetizzare in maniera concreta con Dolly Allora, ad esempio, sei un interior designer e la tua cliente è un amante dei gatti e quindi nel render che gli mostri della sua futura camera da letto puoi aggiungere ad esempio un poster di un gatto con gli occhieri da sole e ad esempio anche a me quando ancora lavoravo negli studi di architettura come architetto ecco, non sai quante volte ci è capitato un cliente che voleva esattamente lo stesso poster che stava vedendo nel render E quindi perché no? Perché non inserire nel render un'immagine questa volta generata da te e poi poter vendere comunque il tuo stesso poster Ah, e tra parentesi l'immagine che stai vedendo adesso del render l'ho fatta io ma l'ho fatta in 30 secondi usando un'altra intelligenza artificiale che è Interior AI Ti lascio comunque il link in descrizione Tornando comunque alla nostra immagine con il gatto e gli occhiali da sole In che altri modi possiamo monetizzare? Allora, un altro modo per monetizzare con le immagini è quello di venderle come prodotto digitale online su Etsy Allora, non voglio fermarmi troppo ora a parlare di che cos'è Etsy però te ne faccio soltanto giusto due parole se ancora non lo conosci Etsy è una piattaforma online per la vendita di prodotti artigianali o vintage e su Etsy in realtà ognuno può registrarsi in maniera assolutamente gratuita e ognuno di noi può iniziare da subito a vendere quindi dei prodotti online aprendo in questo modo il suo shop online a tutti gli effetti e perché ti sto consigliando di vendere la stampa del nostro gatto con gli occhiali in pdf quindi in formato digitale e non stampato? In realtà perché questo è un metodo molto più semplice e a costo assolutamente zero per iniziare a vendere online su Etsy perché in realtà non richiede nessuna competenza semplicemente ti iscrivi sul sito carichi il file e de fatto non devi fare più nulla e la cosa positiva è che con l'intelligenza artificiale il tuo lavoro di grafica come hai visto è praticamente nullo quindi anche in questo caso potresti proporti a prezzi convenienti e puntare di più sul numero di vendite in questo modo ecco la prossima idea che vediamo oggi insieme è quella di aprire un canale youtube o iniziare il tuo proprio podcast ecco in realtà questo non è un vero e proprio metodo di modernizzazione rapido e diretto come possono essere magari gli altri che abbiamo appena visto ma te ne voglio comunque parlare perché secondo me è un investimento davvero molto molto prezioso per il tuo lavoro e anche per il tuo futuro e poi anche perché si ha in realtà l'idea secondo me sbagliata che soltanto i mega influencer possono guadagnare sui social però non è così perché in realtà non devi per forza avere mille mille iscritti sul tuo canale youtube per iniziare a guadagnare grazie ad esso assolutamente no e questo a prescindere poi anche da la monetizzazione diretta di youtube può essere un modo perfetto per farti conoscere a sempre più persone e quindi per attirare comunque dei nuovi clienti per il tuo lavoro ecco perché ti sto parlando proprio in questo video di canale youtube o di postcard perché in realtà puoi sempre chiedere a chatgbt di darti come abbiamo fatto prima una lista di possibili idee per dei video su un determinato argomento oppure puoi magari anche chiedergli come abbiamo fatto prima di elaborare un testo che puoi semplicemente leggere nel tuo video anche se ecco in realtà questo te lo sconsiglio perché secondo me è un metodo troppo impersonale quindi non passeresti proprio nulla di tuo nel tuo podcast o nel tuo video però ecco questa è una mia opinione personale quindi sei libero di fare assolutamente quello che vuoi quindi tornando a noi una volta che hai generato o il tuo elenco di possibili idee o direttamente il tuo testo quello che ti resta da fare è semplicemente prendere il tuo telefono o una telecamera se ce l'hai schiacciare il bottoncino rec accendere il microfono ed ecco che stai creando il tuo canale youtube o il tuo podcast e veniamo poi al contenuto bonus ossia un altro modo di usare chat gbt per aiutarti a monetizzare attraverso queste 5 idee che abbiamo visto insieme in questo video allora come hai potuto vedere queste idee sono ipoteticamente delle idee perfette che funzionano molto bene qual è però la variabile di successo o insuccesso di queste idee soprattutto all'inizio secondo me la prima variabile è sicuramente quanto impegno ci metti e su questo purtroppo non posso aiutarti la seconda variabile è quante persone poi vorranno usufruire realmente del tuo servizio in parole povere avresti bisogno di farti conoscere e quindi hai bisogno di un piano marketing quindi perché non provare a chiedere a chat gbt di scriverti un piano marketing per la tua idea di business e puoi anche provare a seguire così le sue guida i suoi suggerimenti su come fare e cosa fare per proporre il tuo servizio ai tuoi potenziali clienti ecco come puoi vedere questi sono soltanto degli esempi ma ci possono essere in realtà anche altre mille idee su come poter usare questa tecnologia a nostro vantaggio per far sì che le idee umane la nostra insostituibile bellissima creatività trovino un'espressione ancora più potente e perché no? perché non iniziare anche a monetizzare con queste nostre idee? e perché continuo a parlare di monetizzazione? non è soltanto perché in questo modo potremmo scegliere la vacanza a 5 stelle nel resort bellissimo assolutamente no non è per questo che stiamo parlando di soldi su questo canale ma perché in realtà in questo mondo uno dei modi che abbiamo per riappropriarci del nostro potere personale inteso proprio come potere di agire nel mondo è proprio quello di essere economicamente indipendenti ecco fammi sapere cosa ne pensi in un commento e se magari tu stai già usando chatGBT e magari lo stai utilizzando in altri modi io intanto ti saluto ci vediamo nel prossimo video e se ancora non l'hai fatto e questo video ti è piaciuto allora ti consiglio di iscriverti al canale ciao